Sono giorni molto intensi, quelli che stiamo vivendo in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina che celebreremo proprio lunedì prossimo per cui devo correggere il tiro con il professor Lenoci ci ritroveremo tra due lunedì. In questi giorni si è svolto a San Giovanni Rotondo anche il 35esimo convegno nazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio e abbiamo avuto il privilegio di ospitare in questi studi e poi di intervistare Monsignor Domenico Sorrentino Vescovo di Assisi, nonché presidente di The Economy of Francesco. Andiamo quindi a sentire attraverso la sua diretta testimonianza un resoconto della terza edizione della Summer School tenuta dai giovani economisti di tutto il mondo che lavorano insieme a Papa Francesco per un mondo migliore. Si è conclusa la terza edizione dell'International Summer School dei giovani economisti di The Economy of Francesco di cui Monsignor Sorrentino è presidente. Eccellenza, un breve consuntivo della Summer School e gli appuntamenti che vi aspettano. Devo dire che noi siamo felicissimi perché i 50-60 giovani che c'erano espressione di tutto il mondo ci hanno dimostrato un entusiasmo, un'energia, una speranza e una volontà di andare avanti che sono veramente incredibili. Adesso aspettiamo che il Papa ci riceva il 25 settembre perché abbiamo dato una riorganizzazione ai nostri statuti per poter andare avanti e camminare nel tempo. Perché cose di questo tipo che hanno già raccolto in giro di pochi anni migliaia e migliaia di giovani nel mondo hanno bisogno di essere ben organizzate per poter avere la loro sostenibilità e naturalmente il loro futuro. Il Papa ci darà i consigli suoi da Papa e noi li ascolteremo docilmente. Ha avuto un'intuizione grandissima quando ha detto che l'economia si cambia a partire dai giovani. I giovani naturalmente per la loro età non ti fanno vedere il risultato domani mattina ma sono il futuro della società e anche dell'economia. Ecco, in un momento storico ricco di contrasti e di conflitti come questi sappiamo che non è semplice trovare la ricetta magica per risolvere tutti i problemi ma senza dubbio si può tracciare un percorso. Qual è il percorso che i giovani di The Economy o Francesco stanno costruendo insieme a lei? Hanno firmato un patto con il Papa e se si va a quella diecina di punti che hanno firmato si vede subito che è uno scenario totalmente diverso da quello che normalmente ci tocca vivere. Dico soltanto il primo di questi punti. Noi crediamo in un'economia di pace e non di guerra e poi continuano, crediamo in un'economia che non si fondi sulla costruzione delle armi anzi le abborrisca e questo è il punto di partenza perché la pace è il grande dono di Dio all'umanità quando non c'è pace è il segno che abbiamo fatto spazio al divisore, a Satana ecco, purtroppo siamo in un mondo in cui Satana se la sta spassando perché noi gli facciamo spazio in ogni modo lui è il divisore, Dio è l'unificatore e i ragazzi di Economio Francesco hanno il senso dell'unità, dell'armonia perché ce l'ha detto San Francesco il Papa ce l'ha ricordato e ne ha laudato sì tutto si tiene e dunque abbiamo bisogno davvero di fare squadra di fare squadra tra di noi umani ma di fare squadra anche con le realtà del mondo il frate sole, sola luna, sola acqua ecco, il mondo come noi lo vediamo questo mondo purtroppo surriscaldato che ci ha fatto tanto soffrire quest'estate è un mondo che può essere aggiustato con l'aiuto di Dio abbiamo bisogno di energie fresche, giovanili ma di diventare tutti anche un po' più giovani di mentalità per poter mettere mano alla ricostruzione e alla rivoluzione dell'amore in questo mondo ecco, ultima domanda stiamo vivendo i giorni degli ottocentenari francescani a 800 anni di distanza San Francesco è ancora un santo attualissimo in grado anche lui ecco di accompagnarci verso una riscoperta dei valori indispensabili per poter cambiare le cose in meglio San Francesco è giovanissimo io lo vedo dal fatto che adesso lì nel santuario della spogliazione un altro giovane, quindicenne sta facendo davvero miracoli portenti nel mondo e vedo che quando si parla di San Francesco noi lo possiamo declinare in termini di attualità le cose che egli ha vissuto ha intravisto ha sentito e oggi sono ciò di cui abbiamo bisogno innanzitutto partendo da quelle più spirituali abbiamo bisogno di Dio ma di un Dio non soltanto così celebrato nelle nostre chiese di un Dio del quotidiano di un Dio che noi possiamo cantare anche quando abbiamo gli occhi alla luce ai colori al verde San Francesco è il Dio dell'altissimo onnipotente buon signore laudato sì mi signore con tutte le tue creature l'anno del cantico che sta per venire e che non lo dimentichiamo è stato composto in parte a San Damiano fino a Madre Terra e in parte a Vescovado per quello che riguarda il mondo umano il perdono e la morte San Francesco ci dice che ogni passo che diamo può essere un passo fatto con Dio dunque una preghiera che può essere fatta nell'epoca in cui siamo nelle macchine siamo nel movimento continuo si fa nelle chiese quando dobbiamo pure avere la nostra pausa settimanale e magari quotidiana ma si fa dappertutto mi alzo e canto e questa è la preghiera cristiana San Francesco grande maestro di preghiera ma poi grande maestro di solidarietà si fa povero con i poveri non è possibile avere davanti ai nostri occhi e rassegnarci a un mondo in cui un pugno di persone hanno in mano la ricchezza mondiale e ancora milioni e milioni di altre persone non hanno il minimo necessario per vivere questo è davvero uno scandalo insopportabile nell'epoca della tecnologia così raffinata ci facciamo queste interviste andando in tutto il mondo non riusciamo a mandare un pane e un lavoro in tutto il mondo è uno scandalo insopportabile è una contraddizione San Francesco si fa povero con i poveri per essere come Gesù dalla loro parte e poi tutto il resto che sappiamo è l'uomo del dialogo è l'uomo della semplicità è l'uomo che ci aiuta ad essere disarmati dentro prima che fuori perché è il rapporto che si deve ricostituire si deve sanare io ho bisogno quanto ti guardo di non vederti come un concorrente ma di vederti come un fratello la tua gioia deve essere la mia San Francesco è tutto questo ma mi dite voi quale più grande attualità ne abbiamo proprio bisogno